anche se l'estate è ancora lontana meglio non farsi trovare impreparati lo sanno bene in casa csi dove già da tempo si lavora al gioco e sport i centri estivi che da giugno ospiteranno bambini dai 3 ai 14 anni e che lo scorso anno hanno superato le 2000 iscrizioni già diverse le sedi confermate per l'estate 2023 tra queste spicca la scuola montesi di santorso che dopo un anno di assenza torna ad arricchire il ventaglio dell'offerta che ad oggi comprende anche il circolo tennis trave la scuola dell'infanzia rodari nel quartiere poderino la scuola tombari a bellocchi la scuola dell'infanzia bimbe bimbi sempre a bellocchi il pala saiende e la scuola don milani nel quartiere villa san martino a pesaro altra scommessa vinta dal presidente marco pagnetti e il suo entourage sempre più radicato anche nel capoluogo di provincia ma al di là delle sedi destinate ad aumentare da qui ai prossimi mesi quello che merita maggior risalto è sicuramente lo sconto di 10 euro sulla tariffa settimanale uno sconto che va ad aggiungersi alla quota assicurativa interamente a carico dell'ente e quindi a costo zero per le famiglie e alle due settimane completamente gratuite per chi si iscrive entro aprile ovviamente precisa il vice presidente francesco paoloni costo più basso non significa meno servizi anzi a breve partirà un corso di formazione che permetterà al nostro staff di crescere ulteriormente e di arricchirsi di nuove figure per saperne di più sui centri estivi sul corso di formazione e su tutte le attività del centro sportivo italiano di pesaro urbino si può visitare il sito www csifano.it perché anche se l'estate è ancora lontana meglio non farsi trovare impreparati grazie! 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 grazie!